Sindaco, nel cuore della città di Teramo, Piazza Sant'Anna, c'è un'emergenza sicurezza? Sicuramente quello che è accaduto non ci può lasciare così indifferenti, a prescindere dall'aspetto legato all'episodio, credo che ci sia sicuramente da affrontare un problema un po' più generale sulla sicurezza. Sentirò il prefetto perché si faccia un comitato ordine e sicurezza per capire come meglio mettere in rete o quali azioni fare per comunque controllare meglio il territorio come primo aspetto. Come secondo aspetto ho dato disposizioni affinché si acceleri il litter per le telecamere. Noi abbiamo vinto un progetto, siamo in fase oramai di conclusiva, però insomma ho chiesto al dirigente Bernardi di accelerare la procedura. Con questo progetto le telecamere in città arriveranno a 40 e saranno anche collegate fra tutte le forze lordi che saranno messe in rete. Quindi è assolutamente importante da questo punto di vista. Sono casi di bullismo o di delinquenza comune questi? Ma guardi, io credo che ci sia un po' tutte e due le situazioni perché quello che è accaduto alla palestra credo che sia più legato a casi di delinquenza perché hanno cercato di rubare monete e insomma quindi quant'altro. Il fatto di andare nei siti archeologici l'unica cosa da rubare potevano essere i megaschermi televisori che ci sono all'interno diciamo dove si descrive un po' il percorso culturale del sito. Oggi la sicurezza dei cittadini è importante, la sicurezza della città è importante soprattutto in un momento come questo, quel momento storico che stiamo vivendo. quindi ecco perché chiederò anche poi ufficialmente al prefetto un comitato ordine di sicurezza prima possibile.